Centinaia di sostenitori messicani hanno festeggiato davanti all'ambasciata sudcoreana Città del Messico, ringraziando la squadra asiatica per la vittoria sulla Germania che ha garantito al Tricolor un posto nella fase eliminazione diretta della Coppa del Mondo. I tifosi hanno ballato, suonato, intonato cori e fatto indossare il tradizionale sombrero a Sun Tae Park, consigliere dell'ambasciata coreana. La Corea del Sud ha sbalordito tutti sconfiggendo la Germania per 2 a 0, eliminando i campioni del mondo dalla competizione e consentendo al Messico di qualificarsi al turno successivo.